Diplomazia al lavoro per disinescare la mina libanese, potenzialmente devastante per i fragili equilibri medio-orientali. Le dimissioni a sorpresa il 4 novembre scorso del premier Saad Hariri, annunciati in Arabia Saudita e il suo principale sponsor regionale, dopo un'improvvisa convocazione da parte del re Salman, il sovrano di Riyadh, hanno provocato uno sciame sismico che minaccia di allargarsi dal complesso e instabile scenario nazionale, sino a confini difficilmente prevedibili. In campo è sceso anche il presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha detto di auspicare che Hariri possa confermare la volontà di dimettersi anche dal Libano, nel quale non è ancora rientrato, lasciando planare l'inquietante ipotesi di una sorta di arresti domiciliari da parte dell'autorità saudite. Se questa è davvero la sua intenzione, come ha dichiarato il portavoce del governo francese Christophe Castanet, che ha anche sottolineato come Parigi tenga molto all'indipendenza e all'autonomia del Libano, del quale è stata potenza mandataria dopo la Prima Guerra Mondiale dal 1923 sino al 1943, quando ottenne l'indipendenza sotto il regime di Vichy del maresciallo Petain. Il presidente della Repubblica si augura che il primo ministro Hariri possa riaffermare e confermare all'interno dei confini del Libano la sua volontà di dimettersi, se questa è la sua scelta, ha dichiarato Castanet in un resoconto del Consiglio dei Ministri. La Francia, da canto suo, agirà e insisterà, come già fatto dal presidente della Repubblica la settimana scorsa, affinché il primo ministro libanese possa disporre di questa libertà di azione. Macron, dopo una telefonata con il principe della corona saudita Mohammed bin Salman, ha poi invitato Hariri e la sua famiglia in Francia, per tagliare corto le accuse dell'autorità libanesi che accusano il regno saudita di trattenere Hariri a Riad contro la sua volontà. Il premier libanese ha fatto sapere di aver accettato l'invito del presidente, anche se la data del suo arrivo non è stata ancora fissata.